Stando a quello che ha riportato su internet, sembra che Floriana Secondi vorrebbe abbandonare l'isola dei famosi 2022. Ci sarebbe l'intenzione da parte dell'ex vincitrice del grande fratello di abbandonare il gioco in questione. Perché? Perché è il punto interrogativo? Perché la donna sarebbe stata abbattuta a televuoto da parte di Carmen Russo ed il figlio con delle percentuali chiamate bulgare. Oltre, infatti, il 70% ha scelto di eliminare lei, Floriana, e il mutanda, ossia Antonio Zechila. E la stessa Ilari Blasi si sarebbe detta triste, in particolare avrebbe detto, date cara Floriana, non me l'aspettavo. La rite forte tra lei e Nicolas Vaporidis, infatti, le sarebbe costata la nomination, però Floriana, che è in coppia con Antonio Zechila, nonostante il suo carattere sia andata a scusare pubblicamente con tutti e durante la settimana si è andata ad integrare in maniera aderente e completa col gruppo rispetto ad Antonio Zechila. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, dunque, però, ci sarebbe l'intenzione da parte di Floriana Sicconi di abbandonare il gioco. Ok, cambiando regionemente argomento, digredendo, vi ricordo che Playa Vento ha deciso di abbandonare invece la pupa del secchione. Il video termina qua, iscrivetevi al canale del nato italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto nei cari e al prossimo, grazie a tutti.